Ehi la ciurma! Io sono Mezzetess e questa è la mia recensione per Another Lost Phone, Laura's Story. Lo studio francese di Accidental Queens, dopo il grande successo di pubblico e critica di A Normal Lost Phone, più di 100.000 coppie vendute in pochi mesi, ha continuato il filone con questo nuovo capitolo. Come nel precedente gioco, troviamo un cellulare abbandonato ad una stazione. Presi dalla curiosità quindi ci intruffoleremo nei dati personali di Laura, proprietaria del telefono. Attraverso sms, social, email ed altre informazioni ricavate dalla galleria e dal calendario, potremo pian piano farci un'idea di cosa sia successo a Laura e di quale fosse la sua vita prima di abbandonare il cellulare in stazione. Attraverso il morboso piacere di farsi fatti altrui, le sviluppatrici trasmettono un forte messaggio sociale attraverso la vita di Laura, basata su fatti reali, raccontando una storia completamente verosimile. Il gioco è breve, ma molto coinvolgente, e mi è catturato per due ore filate davanti allo schermo, incuriosito dalla storia della ragazza. Vi consiglio assolutamente di giocarlo, il costo è di soli 3€ ed è presente per Windows, Mac, Linux e Android. Per quanto riguarda invece iPhone il prezzo è di 4€ a causa dei costi maggiori della piattaforma. Anche per questa recensione è tutto, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento ed iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto. Ciao a tutti!